Rita dalla Chiesa ho cambiato squadra però pensavano di tenermi in panchina pur di portarmi via l'altra squadra e quindi io invece sono tornata in campo dicendo no scusate io voglio essere libera me ne vado a rivederci grazie e basta ora sono nuovamente come si dice in gergo su piazza sul mercato e quindi qualche proposta sta arrivando le sto valutando sto vedendo se vale la pena tornare sul mercato televisivo oppure se invece io non voglia rimanerne fuori qualche volta star fuori fa bene non si piange sul latte versato oppure pentita ritornerebbe? no sicuramente non si piange mai sul latte versato pentita probabilmente sì nel senso che mi dispiace aver lasciato una trasmissione come quella che mi ha dato tanto e alla quale ho dato tanto per tanti anni della mia vita la ricordo con molta nostalgia con molti rimpianti però insomma le porte poi alla fine se i rapporti sono buoni sono rimasti d'affetto di stima e di amicizia magari qualche porta si può riaprire ecco lontano dalla tv come si sta? fa anche altre cose altre attività immagino? ma io fuori dalla tv devo dire inizialmente sono stata male perché quando sei abituato a correre e tiri il freno a mano ovviamente hai un contraccolpo però poi alla fine devo dire che mi sono accorta che c'è tutta una vita intorno che è bello vivere e quindi rimanere ferma siccome sono una lo dico sempre una privilegiata non sono in cassa integrazione e questa è una cosa importante da dire perché magari le persone che ci ascoltano possono anche pensare ma io che ho perso il lavoro sto molto male lo credo e sono assolutamente solidale con tutte queste persone io invece sono una privilegiata quindi il fatto di essere fuori in qualche modo mi dà la possibilità di guardarmi intorno di osservare nel frattempo mi sono data una delle mie tante come le chiamo io battaglie sociali e quindi ho fatto uno spot assolutamente gratuito ci tengo a dirlo perché è importante che anche i miei colleghi imparino a fare delle battaglie sociali di questo genere e per l'amplificatore acustico quello che si vende soltanto in farmacia perché mi sono trovata una sera a una cena con Fabrizio Bracconeri spalla mia da sempre a forum e mi sono accorta che lui mi ha detto mi ha raccontato che lui non sente da tantissimi anni lui è giovane io non me ne rendevo conto e quindi questa cosa ci ha fatto riflettere ci ha fatto parlare ci ha fatto discutere per tutta la serata perché l'amplificatore acustico è un qualche cosa che le persone devono imparare a usare esattamente come io metto gli occhiali se non ci vedo quindi la cosa importante secondo me è entrare nell'ordine di idee di considerare l'amplificatore acustico come un oggetto del quale non poter fare assolutamente a meno e c'era anche il produttore, l'imprenditore di questo amplificatore acustico che a un certo punto si è sentito dire da Fabrizio Bracconeri e da me ma dai te la facciamo noi la campagna, io l'ho fatta a titolo esclusivamente gratuita Fabrizio poi non l'ha potuto fare perché si è presentato, si presenta alle elezioni quindi non l'ha potuto fare però io ci sto mettendo veramente tutto il cuore e la passione che posso perché in questi mesi di inattività ho visto tanta gente intorno a me che fa fatica a mettere insieme il pranzo con la cena che fa fatica con le pensioni che arrivano magari in modo minimo una signora in farmacia un giorno l'ho vista chiedere un amplificatore acustico e chiedere, dice posso pagare l'altra metà che le devo quando mi ritorna la pensione ecco queste cose dovrebbero far pensare, devono far riflettere non è tutto bello quello che ci circonda insomma e lo sappiamo tutti benissimo per cui ho fatto questa battaglia per un amplificatore acustico che permette alle persone di riprendersi in mano la propria vita i propri suoni, i colori, i ricordi ci sono molte malattie legate proprio al fatto che non si senta più bene come un tempo l'Alzheimer mi hanno spiegato per esempio una di queste malattie la persona si chiude in se stessa, si butta contro un angolo e quindi un amplificatore acustico invece consentirebbe di poter stare in mezzo agli altri non ci si deve vergognare dell'amplificatore acustico questo dico sempre, è come un paio di occhiali tu metti gli occhiali, ti metti l'amplificatore acustico e lo devi pagare poco in modo che l'amplificatore sia per tutti perché ci sono delle persone che purtroppo non possono pagare le tante migliaia di euro che costano altri amplificatori e veniamo adesso a Umberto Giordani titolare di questa nota azienda di apparecchi acustici dottor Giordani, come mai questo prezzo così basso? ma intanto ringrazio Rita per questa opportunità che ci ha dato ad essere con noi a portare avanti questa cosa sicuramente i non passaggi perché noi andiamo direttamente in farmacia non abbiamo strutture intermedie, punti di vendita eccetera dunque questo agevola sicuramente la possibilità di fare un prezzo particolare avevo fatto una ricerca prima chiedendo comunque visto che gli altri amplificatori o apparecchi acustici hanno un costo nettamente superiore questo l'abbiamo voluto tenere sotto i 50 euro proprio per dare come diceva appunto Rita prima un'opportunità a tutte le persone di poter affrontare di poter superare questo ostacolo perché non tutti, anzi su 8 milioni di persone ipoacusiche solo un milione e sei si possono permettere di spendere qualche migliaia di euro e tutti gli altri cosa devono fare? gli altri io ho creduto di avere proprio un prezzo bassissimo a partire appunto da 49 euro per dare come dicevo prima l'opportunità a tutti di poter di nuovo sentire i suoni della vita